C'è anche un vicentino tra le sei persone, di cui quattro arrestate, della banda degli assalti ai Bancomat di mezza regione. Sonny Gabrieli, 22 anni, di origine Sinti, nato a Cittadella ma residente a Rosà. Usando il metodo della marmotta, ovvero un involucro in ferro riempito di polvere pirica che veniva inserito all'interno del Bancomat e fatto esplodere, hanno razziato sportelli tra il Veneto, il Friuli, Venezia e Giulia. Il giovane è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile di Vicenza. Il 22enne era agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico per una serie di furti nei bar della provincia di Treviso.